La carta che utilizziamo per fabbricare le buste proviene dalla foresta, quindi tagliamo gli alberi, ma le persone con cui lavoriamo ripiantano quattro alberi per ogni albero tagliato. Fabbricare buste con una grammatura inferiore, anche così si diminuisce il consumo di materie prime. Con questi container recuperiamo gli scarti della carta, dopo questi vengono rivenduti, quindi è materia prima buona per essere riciclata. Prima il sistema di imballaggio consisteva nel mettere le buste a mano dentro delle scatole. Ora le mettiamo su una bobina. Una bobina contiene 38.000 buste e in un sol colpo abbiamo ridotto di un terzo il consumo di scatole di cartone. Inoltre si guadagna in produttività perché è molto più veloce. Nel 1998 siamo passati a inchiostri a base di acqua e di pigmenti naturali. Questo ci permette di non usare più prodotti chimici per pulire le macchine. Nella lavatrice usiamo acqua piovana e sapone di Marsiglia e questa acqua che è sporca ma non tossica la smaltiamo in mezzo ai bambù. L'apparato radicale dei bambù attiva dei batteri che decompongono lo sporco e se ne nutrono. La sola biomassa generata è la canna di bambù che cresce, che poi noi tagliamo, secchiamo e usiamo per scaldarci.